io sinceramente non riesco a capire perché dobbiamo avere una mentalità ambivalente così tanto marcata è veramente una cosa che mi sto chiedendo perché non è possibile veramente non è possibile dall'anno scorso succede questa cosa che abbiamo una mentalità assurda cioè o siamo incredibili contro le grandi facciamo le partite della vita vedi ad esempio la partita con l'inter la partita con la roma le partite diciamo anche con la juventus basta pensare alla partita con la juventus l'anno scorso insomma dove si fanno delle signore prestazioni stesso discorso vale per le squadre del nostro livello no come ad esempio può essere una squadra come il genoa la fiorentina come il torino come il sassuolo si fanno delle prestazioni anche di un certo livello poi poi cosa succede si affrontano squadre che teoricamente sono ad un livello leggermente inferiore o inferiore nettamente e c'è il blackout il blackout cosmico succede in campionato così come è successo oggi in coppa italia fortunatamente c'è andata di cuco c'è andata veramente di cuco perché è riuscito kushka a salvarci veramente da un delirio dal delirio era proprio cioè andare supplementare col fosinone dopo aver fatto una partita praticamente almeno per il primo tempo dominata e dir poco giocando con le riserve delle riserve delle riserve addirittura con gente della tribuna che non è neanche nella lista della serie a come appunto siligardi beh insomma era veramente eccessivo eppure è successo è successo perché perché il parma c'ha sta cacchio di mentalità che segna gol 1 a 0 boh a posto la partita è completamente finita andate fate ciò che volete di me e il parma si annulla completamente basta attaccare un po fare avere un atteggiamento diciamo offensivo in maniera anche abbastanza leggermente veloce abbastanza anche spinta cosa che nesta cercato nel secondo tempo di avere cioè una fase offensiva molto più rapida e veloce cercando delle verticalizzazioni verso trotta verso citro verso diciamo di attaccanti del fosinone il fosinone ragazzi è riuscito prima a segnare con il gol del pareggio un pareggio che sinceramente non mi aspettavo e da lì in poi c'è stata una valanga cioè mi stavo toccando i capelli stavo per perdere alla homer simpson ero disperato dicevo questi segnano sicuro questi segnano il gol del 2-1 sicuro tant'è che ci sono andati vicini 3-4 volte in maniera netta colombi fatto un paio di interventi niente male loro hanno sbagliato dei gol assurdi tipo quello di citro beh ragazzi io gli dicevo ma cosa cavolo stanno combinando cosa sta succedendo a questo parma finché appunto non è intervenuto cuci a quell'esperienza con una grandissima esperienza con un gesto secondo me da da campione e cioè calcio d'angolo capisce che potrebbe guadagnare il calcio il calcio di rigore avanza velocemente si fa seguire dal difensore si blocca in quell'istante tanto da subire poi il colpo e cadere a terra per un calcio di rigore che secondo me c'è ed è netto ragazzi perché viene colpito in pieno e lì se uno si ferma per cercare di colpire i palloni di testa viene colpito con una spia praticamente la Roman Reigns dal giocatore del Fosinone beh quello lì è calcio di rigore battuto perfettamente da Hernani ed era ora vedere finalmente Hernani battere un calcio cioè riuscire a segnare tra l'altro c'è andato vicino anche con un calcio di punizione era ora era ora però però Hernani bisogna sottolineare che in questa partita maggiormente nel calcio di rigore è proprio sottolineato che lui è così è lento di suo pure nel calcio di rigore ha dovuto fare il passettino lento 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 per riuscire a segnare ma è fatto così importante che adesso la buttata dentro che continui da adesso in poi a sbloccarsi e a segnare non capisco veramente non capisco come mai il Parma abbia queste due facce certo c'è da dire che praticamente i titolari in campo ce n'erano tre e sono entrati tutti e tre durante il secondo tempo che sono Kuczka, Kulusevski e Darmiani gli altri erano comunque come abbiamo detto a parte forse Gagliolo è vero c'era anche Gagliolo gli altri sono tutte riserve quindi bisogna dire che ci sta magari avere un calo sia un calo mentale perché non sono abituati a giocare sia fisico come per esempio per Siligardi che non giocava una partita intera da una vita o Adorante stesso discorso quindi normale che magari possono avere un calo di quel tipo tra l'altro parlando di Siligardi Adorante Siligardi mi sei mancato tantissimo cioè i tuoi tiri così ad effetto che l'anno scorso due anni fa sono stati fantastici mi sono mancati davvero davvero tanto e Adorante ho visto delle cose interessanti cioè il giocatore si vede il ragazzo si vede che c'ha qualità però è ancora molto acerbo era la prima partita che fa da professionista bisogna dire questa cosa però ancora veramente molto molto acerbo c'è da dire che Kulusevski anche lui nelle prime partite sembrava che avesse del talento ma era molto acerbo quindi bisogna vedere il suo ragazzo magari dandogli un po' di fiducia perché no a gennaio provare anche a darlo via in prestito vedrà la società che cosa fare insomma secondo me potrebbe dire la sua in un futuro prossimo anche perché un giocatore cresciuto con noi sì gli ultimi due anni era stato all'Inter però comunque ha fatto l'altra fila da noi è di Parma e quindi è una cosa figa vederlo con la nostra maglia Sprocati nel primo tempo non mi è piaciuto tantissimo mentre nel secondo tempo già qualcosina di più interessante l'ha fatta vedere c'è da dire però che lo stesso discorso vale anche per lui cioè non è possibile arrivare lì sotto porta senza avere la cattiveria giusta per buttarla dentro è successo contro contro chi era non mi ricordo più nella scorsa partita forse contro il Milan non ricordo ragazzi sì forse contro il Milan è successo contro il no la partita prima contro il Bologna ecco contro il Bologna scusatemi contro il Bologna è successo anche questa partita che arriva sotto porta e poi si mangia dei gol veramente un po' adesso ha beccato il palo va bene sfortuna però bisogna essere molto più aggressivi davvero molto più aggressivi in generale diciamo per tutti quanti Kuluseski è entrato e ha cambiato la partita in positivo Kuczka stesso discorso già detto gran giocatore Brugman interessante il suo primo tempo andava su tutti i palloni ha provato anche ad andare in attacco ha fatto anche un bel calcio di punizione mi è piaciuto molto però ancora mancante di ciò che gli si chiede cioè le verticalizzazioni bruma daje però daje veramente e che dire ragazzi io devo dire una cosa importante prima di chiudere e cioè lo so che la prossima partita si gioca contro la Roma e lo so che è praticamente già persa perché sappiamo che quando andiamo a giocare a Roma è già bene finita ma se la mentalità del Parma funziona come ha sempre funzionato contro le big dovremmo fare la partita della vita quindi perché no proviamo a fare la partita della vita e abbattere la Roma ci proveremo vedremo che cosa accadrà boh non lo so ma è una cosa importante io la devo dire puntiamo a sta Coppa Italia puntiamo a questa Coppa Italia io spero vivamente a Roma di non vedere le riserve delle riserve io voglio vedere i titolari fissi io voglio vorrei da tifoso vorrei voglio meglio di no però vorrei da tifoso che la società e il mister puntasse a questa Coppa Italia non venisse snobbata non venisse considerata una coppetta perché ce la si può fare ce la si può fare abbiamo dimostrato di potercela fare contro tutti contro tutti di aver demeritato contro qualcuno è vero ma di potercela fare contro tutti sono partite secche con la mentalità nostra ce la potremmo addirittura fare quindi lo chiedo tifosi del Parma in generale lo chiedo la società ci puntiamo a sta Coppa Italia io ci vorrei puntare anche perché ragazzi vince la Coppa Italia parte il trofeo che abbiamo già vinto in passato ma parte il trofeo ti fa andare in Europa League diretto diretto in Europa League quindi capite che potrebbe servire e veramente a molto quindi io ci punterei fisso sulla Coppa Italia voi fatemelo sapere in un commento qui sotto cosa ne pensate io volevo fare i complimenti al Fosinone per il secondo tempo grande prestazione per il Fosinone così dovevate svegliarci con quel gol lì dovevate tirarci questa manata di sciafoni perché ci voleva veramente non è possibile essere lì molli lenti ma sì 1 a 0 ma sì ma non segniamo il 2 a 0 e il 3 a 0 anche se possiamo no facciamo dei golpi di tacco delle cose avete fatto bene a tirargli quei sciafoni lì chiudiamo il video prima di 10 minuti se la gente rompe le balle iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto grazie mille di aver visto questo video un saluto ciao da Papirus e sempre forza Parma puntiamoci a sto Coppa Italia ragazzi ce la possiamo fare dai 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 grazie a tutti